Festival Mediterraneo, siamo qui con il professor Riccardo Pagano che ha oggi brillantemente moderato uno degli ultimi interventi delle tre sessioni delle giornate. Quindi professore come è andata? Ci fa una breve sintesi. Sì, sono state tre giornate intense di riflessione da parte di diversi studiosi e ricercatori su questo tema proprio del Mediterraneo come un luogo sicuramente di scontri ma anche e soprattutto di incontri. In questa prospettiva dell'incontro proprio oggi ad esempio il professore Malavasi della Società Scientifica di Pedagogia, la SIPED, ha sottolineato proprio come l'importanza dell'incontro risieda proprio tra le persone, tra gli uomini, la formazione umana dell'incontro. Che è un aspetto molto importante perché molto spesso noi tendiamo a sottovalutare questo aspetto e tendiamo a privilegiare altre dimensioni quando invece qualsiasi questione di natura ambientale, economica, politica deve avere sempre come oggetto di attenzione l'uomo. L'uomo e l'umano. Allora il Mediterraneo è un luogo ideale di incontri tra le culture, tra culture differenti tra loro ma non per questo divisive, cioè non è detto che una cultura differente debba essere per forza divisiva, può essere anche invece una forma di arricchimento. Ed è questo lo scopo di questo festival che è del Dipartimento Ionico su un progetto che è stato vinto dal Dipartimento e questo progetto ha previsto proprio come ulteriori fasi, allargamenti ulteriori, progetti Horizon in divenire con i paesi e i popoli del Mediterraneo. Grazie professore. Noi diciamo sempre che concludendo le nostre interviste che ogni sera è sempre una buona sera. Certo e oggi è un buongiorno perché siamo di mattina, è un buongiorno e il buongiorno come si diceva prima avviene anche attraverso il sogno. Sognare a volte può sembrare da folli ma se non si sogna non si può progredire. Perfetto, grazie.